Il 12 maggio si celebra la giornata mondiale della fibromialgia. In occasione di questa giornata la sezione Ice Fonlus Bagheria Palermo ha organizzato una serie di eventi per dare possibilità ai pazienti di incontrarsi, di relazionarsi, di fare quello che è importante per la loro patologia, ovvero movimento e soprattutto ha organizzato anche delle raccolte fondi per appunto sostenere l'associazione. In particolare la giornata in mattinata, appunto il 12 maggio, saremo presenti al Foro Italico con la manifestazione Movimento e Salute. Abbiamo coinvolto una serie di maestri di varie discipline come yoga, meditazione campane tibetane, bioenergetica, Feldenkrais, Pilates, Tai Chi, insomma tutte discipline che da studi scientifici fanno emergere, che aiutano e supportano nella gestione della malattia i pazienti fibromialgici. Siano invitati sia i pazienti ma anche amici, parenti e chiunque volesse partecipare a questa iniziativa. Abbiamo pensato quindi anche a un momento di condivisione e unione per dimostrare che esistiamo, per dimostrare che non siamo invisibili. Quindi ci sarà il famoso lancio dei palloncini come auspicare il desiderio grande di ognuno di noi di avere una dignità di pazienti, di avere una dignità di malati, quindi un riconoscimento della nostra patologia. Durante la giornata ci saranno anche dei banchetti appunto per la vendita delle campanule. Uno sempre al Comune di Palermo, che ringrazio fermamente per la disponibilità, in via Gerale Magliocco. Dalle 10 circa fino alle 20 della sera saremo presenti con un banchetto appunto con informativo e con le campanule, che è il fiore che rappresenta la nostra malattia per raccogliere fondi. Ma anche qui a Bagheria, al Comune di Bagheria, saremo presenti presso Corso Umberto di fronte ai piazzetti Alfano. Dalle 15 alle 20, quindi invito chiunque volesse a venire ad acquistare una piantina. È anche l'occasione della festa della mamma, quindi che servirà a sostenere la nostra causa. Però io non mi sono voluta fermare e ho voluto anche organizzare altre due iniziative, che mi sono sembrate originali e particolari, proprio per dare risalto al fatto che siamo invisibili. E quindi dare questa pubblicità a noi pazienti che invece esistiamo. E allora, siccome a ottobre, sempre qui al Comune di Bagheria, grazie al patrocino del Comune di Bagheria, abbiamo realizzato uno spot di denuncia del nostro mancato riconoscimento, ho chiesto a diversi cinema del territorio, Palermo, Villa Abate, Bagheria, che hanno immediatamente accolto l'iniziativa, di poterlo proiettare durante la giornata, negli intervalli o prima dei film. E tutti mi hanno dato la loro disponibilità, quindi ringrazio anche le varie direzioni di tutti i cinema. Soprattutto Bagheria mi ha dato carta bianca in tutte le sale cinematografiche. Devo dire, da questo punto di vista, grandemente supportati. E poi un'altra cosa che ho voluto organizzare, che il Comune di Palermo mi ha dato disponibilità, è quella di dare più informazione possibile. E cosa ho pensato? Inserire una nostra locandina dentro ogni autobus che circola nel Comune di Palermo. Quindi ringrazio il Presidente Lamat, il Comune, che hanno permesso ciò. E quindi già da un paio di giorni, sui pullman, sugli autobus che circolano a Palermo, troverete la nostra locandina con descrizione di quella che è la patologia, la nostra associazione e tutti i riferimenti. In modo che la gente, se ci fossero dei pazienti che ancora non sanno che esistiamo sul territorio, possano tranquillamente trovarci, contattarci per poter essere supportati e sostenuti. Invito chiunque volesse veramente a partecipare, a sostenerci, a unirsi con noi. Abbiamo bisogno di tanto supporto e di tanto sostegno. Grazie. Grazie.